Dal Vangelo secondo Matteo 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 Gesù è il pane disceso dal cielo Noi quando ci nutriamo del suo corpo e del suo sangue Ci nutriamo di Lui Però non è sufficiente nutrirsi del suo corpo e del suo sangue Perché noi quando celebriamo l'Eucarestia Siamo invitati e in un certo senso obbligati A fare il passo sì Verso la comunione con il corpo e il sangue di Cristo Che ci rende una sola cosa con Lui Ma siamo obbligati a renderci come Lui E in Lui un'offerta per gli altri Gesù si è fatto pane spezzato per ogni uomo L'Eucarestia alla quale noi dobbiamo accostrarci L'Eucarestia della quale dobbiamo nutrirci Perché il vero pane di vita ci deve rendere pane spezzato per gli altri Altrimente l'Eucarestia non ha senso L'Eucarestia è il miracolo dell'amore E Gesù ce l'ha donata prima di salire al Padre E noi ricevendo l'Eucarestia siamo resi capaci di vivere il miracolo dell'amore Ma il miracolo dell'amore non è fare i miracoli come li intendiamo noi Ma è vivere delle esistenze donate Ma voi mi direte Coi tempi che corrono altro che essere esistenze donate Ci vuol tutto che io riesca a coltivare il mio piccolo orto Ci vuol tutto che io riesca a mandare avanti la mia famiglia È tutto vero questo Ma renderci vite donate e pane spezzato vuol dire guardarci intorno Iniziando da coloro che vivono con noi Quante fragilità amici Quante sofferenze oggi all'interno delle famiglie Dicono i sociologi che i drammi più grandi oggi si vivono all'interno dei nuclei familiari E ogni tanto qualche notizia di cronaca eclatante ci fa toccare con mano questi drammi Quante sofferenze oggi nelle nostre case Nei nostri condomini Nelle nostre parrocchie Nei nostri paesi Renderci pane spezzato vuol dire allora Essere capaci di intercettare questa sofferenza E forse non saremo capaci di dare delle risposte Ma siamo capaci di assumerla Saremo capaci di dire una parola di bontà e di speranza Saremo capaci di fare gesti di compassione Saremo resi capaci di guardare forse Con un occhio diverso e con un cuore diverso I nostri fratelli che stanno vivendo questi drammi In questa settimana veramente il Signore allora ci accompagni L'Eucaristia che celebriamo il giorno del Signore Ci rende capaci proprio ad essere uomini e donne di compassione Che sono capaci di farsi pane spezzato Nella quotidianità del loro vivere Quotidianità senza pretese Ma dove veramente giochiamo Tutta la forza e tutta la bellezza Unita alla passione del nostro essere cristiani Il Signore veramente ci faccia questa grazia Ma noi sappiamo che il Signore ci fa la grazia Se noi accogliamo questo miracolo dell'amore E allora apriamo il nostro cuore al dono del Signore E facciamoci pane spezzato Per i nostri fratelli e le nostre sorelle Iniziando proprio da coloro che vivono con noi Che condividono il nostro condominio I nostri quartieri e le nostre parrocchie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti